E il nostro weekend comincia di giovedì qui al Mirto Club di Portici, serata a Salsera e Haus. Io sono Alessandra, queste notti brave, a voi il servizio. Questa sera Bruno Barra. Bello questo posto. Sei felice di essere qui quindi? Sì, sono contento per due motivi. Prima perché sono venuto in un posto bellissimo e poi perché sono tornato a lavorare con Gigi che era un po' di tempo che non lavoravo. E poi si sta freschi qua, madonna, fa un caldo. Quasi sta, vedi, non sto sudando, io generalmente sudo. Anche io, anche io. Io bevo solo acqua, non alcolici. E quando bevi acqua è solo un po' sovrappeso, diciamo. È sudo, invece qua no. L'idea è quella definita da noi semplice. Un free entry, una cosa molto molto easy, che proponiamo al pubblico nostro, che è un pubblico comunque giovane. Ci ritroveremo qui tutti i giovedì della stagione. Avremo qualche nome, qualche guest. Giovedì prossimo avremo una console donna. È anche un tema che abbraccia. Lascio... Allora, facciamo un saluto agli amici di Notti Brave, che le Notti Brave siano sempre tranquille. Non bevete troppo, bevete ma non troppo. Non fate così stupefacenti. Il mio slogan è Say No Drugs for Your Life. Quindi cerchiamo di educare i giovani a divertirsi in modo sano. Notti bravissime, però tranquilli. Vi aspetto tutti giovedì. Noi, notti brave, siamo in famiglia. E' una location dove praticamente ci dà uno spettacolo che è quello del Golfo di Napoli, per cui non potrebbe non piacere. Sì, anche perché per la vostra musica da ballare diciamo è anche più rilassante questo luogo. Sì, è anche più rilassante, ci porta un po' via con la mente a quello che dovrebbe essere un posto caraibico, quindi il mare sposa benissimo con quella che è la nostra filosofia. Ho sentito così per caso, Bayard Rooms, mi spieghi cos'è? Sì, Bayard Rooms è la novità di quest'anno del gruppo Bayard. Sono otto camere vista mare, molto belle, di otto colori diversi che possono accompagnare tutti i nostri ospiti sia locali che internazionali. Come dire, per un Bayard night and day. a tutti i nostri ospiti sia locali che sono stati